Io parto da alcune cose molto semplici, probabilmente abbiamo sbagliato il titolo di questa giornata perché parliamo di ricordo, il ricordo è legato a qualcosa del passato, in realtà sì è vero oggi è un omaggio, un omaggio doveroso a Tony, è un atto d'amore che facciamo verso di lui però il senso di questa giornata è anche un po' cercare di capire qual è stata la caratura umana, politica, teorica di Tony alla luce di quello che è il patrimonio comune che ci ha lasciato, anzi non che ci ha lasciato che dobbiamo essere assolutamente in grado di portare avanti. In questi giorni, nell'ultimo mese, sono usciti moltissimi articoli, contributi che hanno posto la questione dell'eredità dell'eredità sotto moltissimi aspetti, alcuni li abbiamo pubblicati su Global Project, ce ne sono molto interessanti su Euronomade, su Dinamo Press, invito a leggerli. Però c'è un dato, c'è un dato che Tony è un patrimonio intergenerazionale, io cito una cosa che è molto soggettiva è successa una decina di giorni fa, quando abbiamo deciso, abbiamo scelto come centri sociali del nord-est di andare a Parigi per i funerali che sono stati il 3 gennaio, si è formata in maniera quasi naturale una delegazione composta da diverse generazioni militanti, magari quelli un po' più vecchi del periodo no global, la generazione successiva, giovani compagni e compagni legati agli ultimi cicli di lotta e là, durante il momento di ricordo, poi quando ci siamo rincontrati, abbiamo ad esempio visto Gianni Gianni Celeste, Gianni dopo di là alcune cose, abbiamo rincontrato tantissime generazioni questo ti dà la misura plastica di quanto Tony fosse sia realmente un patrimonio transgenerazionale questo non è una cosa scontata, perché è chiaro la caratura, la levatura politica, teorica non si discute, ma questo è un elemento estremamente centrale ed è quello che oggi vorremmo provare a porre in questa discussione, in questa chiacchierata. Ovviamente questo patrimonio poi è legato a mio avviso anche a un'attitudine, io da giovane militante, alcune cose leggendo Tony le ho apprese, non solamente leggendo ovviamente praticando poi la politica, però c'è alcune cose che rappresentano un'attitudine, un'attitudine che crediamo sia necessario portare avanti, ad esempio il fatto che la fase va sempre letta con le lenti della complessità e mai con quelle dell'ideologia questo è un elemento estremamente rilevante, quello di immaginarsi, sto dicendo alcune cose, no? Quello di immaginarsi sempre dentro qualsiasi ciclo di lotta un potere costituente o un'ambizione ad avere, a definire una forza costituente, non solamente un attacco giusto, legittimo che sia destituente, tante altre cose, no? Il fatto che il capitale non assoggetta mai completamente, no? L'eccedenza, ci siamo innamorati di questo termine, quanto l'abbiamo usato anche a volte un po' a caso, ma questo è un altro discorso. Però ecco, sono tutti elementi che denotano appunto un'attitudine, torniamo sull'attualità, sull'idea di fase, no? Riempiamoci un po' la bocca con questo termine. Ebbene, quello che sta succedendo, lo spazio di conflitto, di guerra globale che si è aperto, prima abbiamo ascoltato alcuni incisi di Tony, no? Quando parlava di dieci anni fa, quando parlava della crisi dell'egemonia americana, bene, questa finta multipolarità, anche difficile, brutta questa parola, oppure l'idea di un riassetto, no? Che c'è del capitale attraverso, che ha la guerra come elemento costitutivo, bene, queste sono categorie che comunque leghiamo a quella che è stata l'elaborazione di Tony e di Michael, che poi tra l'altro sarà presente online tra poco. Sulla questione della guerra però ci tengo a dire altre cose, perché mi ha colpito moltissimo l'intervento di Judith alla commemorazione, al funerale, quando diceva Tony odiava profondamente la guerra. E questa è una cosa che a mio avviso va al di là dell'elaborazione teorica, al di là degli aspetti politici, perché è un elemento viscerale. Chi è comunista è contro la guerra, senza se e senza ma. Questa è una lezione, una lezione di vita, oltre che ovviamente una lezione teorica che dobbiamo sempre, che ci accompagna sempre. Su questo mi permetto di fare una piccolissima digressione, oggi sono cento giorni dall'inizio di un attacco genocida incredibile e su questo permettetemi un po' di propaganda politica. Sabato 20 gennaio saremo a Vicenza, a Vicenza c'è la Fiera dell'Oro dove c'è un padiglione israeliano dedicato ai diamanti e c'è un appuntamento che abbiamo dato vicino al Bocciodrom, al parco di via Rossi, per andare a contestare, andare verso la Fiera dell'Oro per bloccare questo abominio. Purtroppo non riusciamo a farlo, ma almeno proviamo a bloccare il padiglione israeliano. Io finisco con una cosa legata a Padova. Alla sua Padova l'abbiamo anche scritto nel testo che provava a convocare questa giornata, perché è evidente quanto Tony sia stato tra i più grandi protagonisti non solo di una stagione, ma di una ricchezza politica, culturale, sociale enorme. Quindi questa città deve tantissimo a lui. Sappiamo anche, è inutile nasconderlo, che Padova è stato un laboratorio di altro tipo, un laboratorio di repressione. Il 7 aprile, il teorema calogelo. Chi vive e fa politica in questa città sa che quella è una ferita ancora aperta. Ci tenevo a dirla questa cosa, perché il punto non è la pochezza. Abbiamo letto alcune cose veramente agghiaccianti da parte dei protagonisti di quella stagione, del PC di quella stagione, dopo la morte di Tony. Si parla ancora di cattivo maestro, ma il punto non è questo, a mio avviso. Perché sappiamo tutti, è stata una bufala politica giudiziaria la più grande probabilmente. Abbiamo ragione da quella cosa, su questo non c'è assolutamente niente da dire. C'è però una cosa che io ci tenevo a rimarcare, perché è chiaro che il 7 aprile è una rottura, Tony l'ha detto tante volte, ha provocato dolore, sofferenza, galera, queste cose non vanno dimenticate. Ma non ha mai prodotto ceneri. C'è stata sempre una continuità, c'è stato sempre chi ha raccolto, e questo lo dobbiamo anche a Tony. C'è stata l'eredità raccolta da Radio Sherwood, ci sono stati i centri sociali al nord-est, un progetto politico che continua tuttora, i collettivi, le associazioni, l'ADL, ci sono state tante cose. E qui c'è una lezione, anzi due lezioni a mio avviso che prendiamo da Tony. Dentro questa che è una storia comune, tra parentesi, qui trovate un banchetto di open memory, open memory è un progetto che abbiamo deciso di fare alcuni anni fa nella sede di di Sherwood, dove ci sono alcuni materiali d'archivio, proprio per avere sempre bene in mente, soprattutto in questa città, quanto è importante il legame tra presente, tra passato e presente. Dicevo due lezioni e qui finisco. La prima è che l'eredità, l'eredità anche che c'è stata in questi anni, è sempre stata quella di aprire nuovi spazi di libertà, nuovi orizzonti, nuovi modelli di soggettivazione, non si può pensare, soprattutto in una città dove c'è una ferita ancora aperta, a leccarsi le ferite, ma è importante sempre questa attitudine. L'altra è che la sofferenza, la sofferenza Tony l'ha sempre portata con grandissima dignità, proprio perché produce rotture, è vero, ma non sempre, anzi molto spesso non produce sconfitte. Io credo che questa sia la cosa più importante per chi oggi ancora con orgoglio può definirsi e sentirsi comunista nella pratica e non nell'ideologia. Grazie davvero Tony e passo la parola a Marco.